Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Siete più preoccupati per il fronte internazionale così caldo o per i tanti problemi interni che il governo dovrà affrontare? Direi più per i problemi interni, sì, assolutamente sì. La riforma a buona fede, la prescrizione. La riforma non si risolve? No, no, non è questo il criterio per risolvere la durata dei processi. Il governo è in grado di affrontare il doppio fronte, quello internazionale e quello interno? Diciamo che per quanto riguarda il discorso internazionale forse manca un po' di esperienza. Per quanto riguarda il fronte interno bisogna capire se su alcuni punti che sembrano essere quelli chiave si troveranno o troveranno un accordo. Siete preoccupate per il fronte internazionale così caldo in questo momento? Sì, tanto tranquille, non si può essere con quello che sta succedendo. Cosa pensa che si possa fare nell'immediato? Una politica più stringente a livello dell'Unione Europea, insomma una collaborazione maggiore della linea politica da seguirsi. Ecco, l'escalation internazionale la preoccupa? Per niente, guardi, non succede niente. Gli americani si dovrebbero dare una calmata abbastanza perché stanno facendo di tutto e di più, sono dei guerra fondainati. La politica interna diciamo che ci riguarda in maniera diretta ed è una cosa molto preoccupante perché rimane stabile, nessuno insomma in qualche modo riesce a rivoluzionare e far sì che il popolo vada alle elezioni. Da 25 anni siamo in uno stato continuo di elezioni, ci prepariamo sempre alle prossime elezioni, siamo sempre in campagna elettorale, nessuno di fatto va a chiudere le problematiche che ci affliggono. È preoccupato per la crisi internazionale? Abbastanza perché vedo che si tratta di azioni un po' insensate. Invece per quanto riguarda la politica interna, tutte le sfide dovrà affrontare il governo? Lì sono un po' più fiducioso, soprattutto nella persona del Presidente, quindi di Conte. Anche se ci sono prospettive poco rose, però sono abbastanza fiducioso. Smazza se non sono preoccupato, è stato un atto criminale fatto da Trump. Io mi aspetterei dei nostri politici che si preoccupassero per una situazione del genere perché lì abbiamo 900 soldati in Iraq, mica uno. Volevo sapere se era più preoccupato per il fronte internazionale o piuttosto per i tanti problemi che il governo dovrà affrontare qui in Italia? Direi che c'è abbastanza da essere disperati. Non so cosa sia peggio. Un governo serio avrebbe la capacità, forse, di affrontare la situazione internazionale. Quindi direi che una cosa aggrava l'altra. La vede nera sia sul fronte interno che su quello internazionale? Abbastanza. Mi consolo con lo cioccolato. A presto.